Aperta a Merano la stagione delle grandi gare, il confronto adesso è tra questi volti, unitamente le figure che fanno loro da piedistalli, viventi inmi alla bellezza del mondo. La giuria studia il suo voto nella seconda sfilata, quella in vestito da sera, la prima era stata in costume regionale. Ma la definitiva è questa, recenti gare di bellezza sono state aspramente criticate per i tranelli e trucchi in cui la giuria era caduta, qui a Merano i trucchi non sono facili, la severità è adeguata al problema, proclamare per il 52 la più bella d'Italia. 18 giudici siedono al tavolo dei verdetti, mi troviamo Paone con Orio Vergani e Villani, a Falconi si sono appannate le lenti. Ecco la vincitrice, Eloisa Ciammi di Roma, tocca alla Valdettaro di cingere la sciarpa, Eloisa ha vinto con 17 voti su 18. Lo stesso 17 ha portato fortuna anche a Lila Rocco, Miss Cinema, triestina di Roma, 19 anni anche lei come Miss Italia, la quale dopo lotta serrata con una Ligure e una Lombarda ha veramente come tutti dicono vinto in bellezza.